Musica Balli in maschera, sfilate di carri allegorici realizzati con materiali riciclati e carta pesta e musica, tanta musica fino a notte fonda Sono Claudio Gruglio, capo contrata del Cervone e vi aspetto al Carnevale Palomontese Sono Aristide Parisi, capo contrata del Farcone e insieme alla contrata La Jumenta stiamo realizzando Harry Potter Vi aspettiamo numerosi al Carnevale Palomontese Sono Laura Grisi, capo contrata della Contrada Runup e vi aspetto al Carnevale Palomontese Ritorna così, tra l'entusiasmo di grandi bambini, il Carnevale Palomontese che si svolgerà nei giorni 19, 21 e 25 febbraio 2023 a partire dalle ore 14 e fino alle ore 23 a Palomonte Sono Deia Cupo, capo contrata della Contrada Guardavastro e stiamo realizzando il carro della Sirenetta e vi aspettiamo tutti al Carnevale Palomontese, non mancate Francesco Benevenga, la nostra contrata si chiama La Volpe e il tema del carro è Aladin Vi aspettiamo per il Carnevale Palomontese organizzato dall'amministrazione comunale, grazie a loro Sono Donino Gruglio, capo contrata della contrata UTOR Stiamo organizzando questo nostro spettacolo, il carro di Alice Vi aspettiamo a Palomonte nei giorni 19, 21 e 25 Venite al Carnevale Palomontese organizzato dal Comune di Palomonte Vi aspettiamo in tanti Divertimento, di cui la cittadina salernitana di Palomonte, situata tra la Valle del Sele e la Valle del Tanagro sarà protagonista indiscussa per tre giorni, grazie al Comune di Palomonte che è l'ente promotore dell'evento e centinaia di famiglie del posto che in queste ore, come ogni anno da ben 40 anni stanno realizzando i carri allegorici e gli abiti sartoriali con cui sfileranno per il Carnevale che vedrà come prima tappa il 19 febbraio, località per razze la seconda tappa il 21 febbraio in località Valle e la terza ed ultima tappa di chiusura il 25 febbraio in località Bivio di Palomonte Un evento che, come ricorda il Sindaco del Comune di Palomonte, Felice Cupo rappresenta l'identità culturale e storica del territorio Grazie a tutti